E siamo allo sport, gara 3 scudetto di pallavolo femminile al Palaverde di Villorba. La Prosecco d'Occhi Moco Conegliano si è imposta per 3-7 ad 1 contro Scandicci. Una partita emozionante e tirata, sempre punto a punto, risolta nella quarta frazione dalle Pantere con il parziale di 25-22 dopo due match point annullate dalla squadra toscana. Adesso Conegliano avrà sabato sera a Firenze alle 20.30 la prima possibilità per conquistare il titolo.